oggi ho preparato per voi la cioccolata calda con pochi ingredienti e con molta velocità potete preparare una tazza ricca di una squisita cioccolata bella bollente da gustare con i biscotti seguite il mio video e scoprite come fare il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info ecco il risultato metto nella tazza e vi faccio vedere la densità guardate come densa spero che la ricetta vi sia piaciuta se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video e ad iscrivervi al canale in cucina con messier dove trovate tutte le mie video ricette in più potete iscrivervi al gruppo facebook messier chiusi in connect e plus italia e potete seguirmi sul sito www.mesmerism.it buona cioccolata calda a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti e grazie a tutti